Ciao ragazzi, amici di News Formula Uno, bentornati e sono Giovanni Messi, presento l'amico Davide Russo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. E torniamo per le nostre pagelle di questa prima parte del campionato del mondo duemilaventuno e ci sono rimaste da assegnare le votazioni per Mercedes, Red Bull Honda, Ferrari e McLaren. Partiamo appunto dal duello per il terzo posto, Ferrari e McLaren sono appagliate a centosessantatré punti in classiva, quindi un equilibrio totale e Davide partiamo un po' dalle votazioni per quanto riguarda la McLaren, team che si è confermato in crescita dopo un duemilaventi già molto molto buono. Sì, allora partiamo dal presupposto che io la McLaren ho dato un sette. C'è una questione di fondo, sono peggiorate le altre o sono migliorati loro? Perché effettivamente l'anno scorso si sono giocati con con la Renault eh oggi Alpine e con la Racing Point oggi Aston Martin. Questi ultimi team oramai sono distantissimi dalla McLaren e quindi bisogna capire quanti meriti ci siano della McLaren e quanti invece siano i demeriti degli altri. Tu cosa ne pensi a riguardo? Mi consenti un po' più di cattiveria? Sì. Io sto tra il sei e il sei e mezzo per due motivi perché McLaren è passata al motore Mercedes e quindi mi aspettavo uno step più importante invece Mercedes e Red Bull sono quasi più lontane dell'anno scorso sul passo gara intendo di gara a parte l'Austria dove Norris ha fatto un miracolo e altro motivo perché McLaren la va forte solo con Norris praticamente Ricciardo una stagione tremenda quindi bisogna vedere se è come la Red Bull che solo Verstappen riesce a far andare questa macchina oppure se è Norris che appunto riesce a fare una differenza mostruosa e Ricciardo è in grossa difficoltà però al momento le parti deludenti sono che il McLaren sta combattendo contro Ferrari solo con Norris e il motore Mercedes effettivamente tutto questo miglioramento non sembra averlo dato evidentemente è perché il telaio è rimasto più o meno sui sugli standard lo scorso anno quindi un po' mi hanno deluso sinceramente su alcune piste specialmente. Allora velocità di punta sono forti forse l'handling dell'auto come dici tu riesce ad esaltarla soltanto Lando Norris che è esploso perché diciamolo apertamente era andato a podio lo scorso anno nella prima gara in Austria però adesso sono tre podi in questa stagione tre terzi posto e quindi da sto punto di vista qui io a Norris da un voto molto alto gli ho dato addirittura otto e mezzo perché analizzando tutto è stato sfortunatissimo nel ritiro anche in Ungheria ma cosa avrebbe potuto fare di più Norris? Cioè io non sono riuscito a trovare gare dove forse salvo una avrebbe potuto portare più punti a casa. Io do nove infatti a Norris unica gara deludente Barcellona credo sia l'unica dove è arrivato dietro a Ricciardo ma poi per il resto perfetto io gli do un bel nove perché veramente questo ricordiamoci che al terzo anno in Formula 1 è praticamente un ragazzino e che però sta facendo delle cose straordinarie quindi tanti podi ancora una volta quest'anno e gli manca solo la vittoria veramente a Norris quindi nove pieno perché è lui che sta reggendo che sta tenendo in vita la McLaren nel confronto contro la Ferrari perché è terzo o quarto in classifica se non ricordo male eh lì comunque con Bottas e Perez quindi un un campionato incredibile. È terzo. È terzo addirittura quindi davanti a un pilota Mercedes e un pilota Red Bull quindi pensate cosa sta facendo sto ragazzo quindi nove assolutamente senza senza alcun dubbio per me. Eh c'è stata una frase che volevo riportarti di Jack Villeneuve molto interessante che ha detto l'anno Norris ha distrutto Ricciardo poi ci arriviamo a dare Ricciardo è cresciuto eh ed è molto forte nelle gare anche lui è un figlio di papà come Stroll ma mostra una fame impressionante inusuale per i piloti che non hanno dovuto fare sforzi. Questa è una frase bellissima perché effettivamente sai quando c'hai il futuro spianato il sedile assicurato tutto sommato non è facile tirare fuori quella grinta no? E invece Norris ha dimostrato di essere veramente forte ed essendo giovanissimo non lo so immaginare quanti anni avrà davanti per continuare a crescere quindi sì eh voto voto molto alto tu addirittura hai dato nove io comunque otto e mezzo sono voti altissimi se avete seguito la la prima parte vi invitiamo a seguirla e forse il voto più alto che abbiamo dato nettamente fino adesso e invece passiamo all'altra l'altro risvolto della medaglia ovvero Dani e Ricciardo io ho scelto per un quattro e mezzo sono stato forse sin troppo cattivo quattro io io do quattro perché l'unica l'unica scusante che ha Ricciardo e su questo non possiamo dire nulla è che ha avuto un giorno e mezzo di test per imparare un po' questa vettura questo è è un tre ai regolamenti perché ha avuto un giorno e mezzo di test per adattarsi alla McLaren però dei test sono passati sette mesi e quindi il tempo se sei un pilota forte come io credo sia Ricciardo il tempo lo trovi per adattarti invece è stato massacrato mi ricordo addirittura a Monte Carlo doppiato mentre Norris arrivava terzo Ricciardo veniva doppiato tredicesimo quindi pessimo veramente Ricciardo io non vorrei che questo pilota avesse perso un po' le motivazioni perché comunque sono anni che non vince anni che non è in lotta per il top dopo l'esperienza Red Bull è secondo me un pilota non vorrei esagerare ma già in fase galante perché lo vedo in in grossa difficoltà con questa McLaren in grossa grossa difficoltà col confronto con Norris quindi deudente assolutamente sì poi il voto non è altissimo sul team anche perché hanno investito tanto no nel prendere una risorsa come Ricciardo proprio a livello economico aveva comunque fatto abbastanza bene il Renault e quindi ci aspettavamo Ricciardo anche superiore rispetto a quello dello scorso anno e invece invece è crollato è crollato nel confronto anche in qualifica tante volte veramente malissimo e poi parlano i risultati c'è veramente troppo poco se la McLaren è lì in classifica secondo me è soprattutto grazie a Norris 63 punti di differenza 63 63 punti di differenza ma anche nei costruttori abbiamo detto Ferrari McLaren 163 ed è veramente devono fare una statua d'oro a Norris perché perché da questo punto di vista qui quindi la risposta me l'è data sono un po' scivolati gli altri team mentre la McLaren bene o male è rimasta la stessa non è migliorata tanto con il motore Mercedes e quindi siamo lì passiamo alla Ferrari dai questo è il tema caldissimo è certo e non è facile dare un voto alla Ferrari perché se calcoliamo come andava lo scorso anno la Ferrari c'è da far festa per alcune gare però visto che parliamo di Ferrari non ci si può esaltare troppo quindi io anche con la Ferrari starei sul 6 e mezzo 7 massimo rimango un po' lì in questa finestra perché comunque ci ha fatto alcune gare sono state positive le qualifiche soprattutto due pole di Leclerc alcuni podi purtroppo quella vittoria a Monaco e secondo me sarebbe stata di Leclerc ma poi non è riuscito neanche a partire per via di quell'incidente però ci sono state gare sì molto molto positive da altre altre deludenti mi ricordo la Francia francamente anche l'Ungheria è stata molto deludente perché lì la Ferrari era un'altra di quelle gare pazzi di cui tu devi approfittare e non sei riuscito a approfittarne sfortunato Leclerc ma Sainz in gara non aveva il ritmo di Alpine Aston Martin o comunque affaticato a tenerlo e quindi poi c'è stata Silverstone che invece ci ha esaltato perché Leclerc è stato lì in lotta con Hamilton quindi tanti alti e bassi forse troppi e quindi crescita è importante rispetto all'anno scorso però chiaramente non sono ancora standard da Ferrari speriamo di averli nel 2022 Allora se mi avessero però detto in questa stagione le due poll di Leclerc neanche ci avrei creduto cioè ci sono stati veramente come detto tu degli alti e bassi un'altalena continua di prestazioni di emozioni eh quindi sei e mezzo sei e mezzo perché allora la sufficienza è piena perché si è si è lavorato però ragazzi lo so che non si potevano fare miracoli però la delusione quando si parla di Ferrari che non è mai comunque in lotta per qualcosa di importante eh nelle ultime eh due stagioni soprattutto perché poi comunque nel duemiladiciannove è arrivata seconda nei costruttori quest'anno la vedo la vedo una battaglia per per riuscire ad accaparrarsi quella terza posizione eh però tutto sommato comunque i piloti stanno cercando quell'acuto quell'acuto che è molto difficile trovare in una situazione del genere quindi circa i piloti per una volta vado su un ex equo ovvero sette a tutte e due sì ci può stare ci può stare come valutazione perché perché comunque anche loro eh hanno fatto degli errori degli errori dei piloti ci sono stati ma sempre perché sei un pilota Ferrari quindi devi dare il massimo su quella macchina però a livello di prestazioni ho visto delle gare incredibili di Leclerc perché ce ne sono state veramente alcune assurde come Silverstone come anche Barcellona dove magari si è notato di meno però ha fatto quel gran quarto posto eh sì ce ne sono state anche di Sainz anche Sainz a volte è stato davanti a Leclerc ha fatto bene eh certo poi lui è quello che dei nuovi piloti in altre dei piloti che hanno cambiato scuderia si è adattato meglio quindi anche per quello merita una valutazione alta quindi i piloti secondo me un'ottima coppia eh poi è chiaro li dovremmo vedere con una macchina forte perché questa obiettivamente non è una macchina forte è una buona macchina cresciuta ma che ancora non è non rispecchia i standard ferraristi perché abbiamo visto il gap medio dal vincente e sui 50 50 e 55 secondi durante tutto l'anno che è un'eternità quindi dobbiamo aspettare per valutare la Ferrari come rinata. E in classifica Sainz è sesto a 83 punti davanti alle Clerc a 80 quindi è un po' qui che si gioca anche tra di loro no? Anche forse a livello psicologico poi ovvio non è quello l'obiettivo però sempre tra compagni di squadra un po' di rivalità sotto sotto c'è volevo dire tanti punti diversi eh? Tanti punti diversi dalla Ferrari. Sì si poteva anche essere in qualche punto avanti a questo punto alla McLaren però la stagione è ancora lunga e vedremo volevo dirti Binotto a proposito di questo discorso ha dichiarato sono molto contento per diverse ragioni la prima è che penso che abbiamo la miglior coppia di piloti dell'intera griglia la seconda è perché sappiamo che nonostante le Clerc sia un pilota fantastico e di grande talento continua a migliorare e e sono piuttosto contento di questo. Cosa ne pensi di questo? Cioè miglior coppia di piloti dell'intera griglia sei d'accordo? È un'ottima coppia questo indubbiamente. Voglio vedere che si intende per ottima coppia se a livello di forza dei singoli di amalgama nel team cioè di come lavorano insieme perché per dirti la coppia Hamilton Bottas ha funzionato in Mercedes quel primo e secondo come piloti però a livello di Bottas è nettamente secondo me inferiore a Sainz e Leclerc poi c'è però come team lavorano bene capisci quello che intendo quindi è difficile pensare dire qual è la miglior coppia sicuramente a livello di risultati la coppia sta lavorando bene perché nonostante entrambi per un motivo o per l'altro siano lontani da Norris ti permettono di stare lì in lotta con la McLaren anche se hanno credo 30 punti meno di Norris però stanno facendo il loro stanno lavorando di squadra quindi sicuramente se non la migliore siamo lì è con con altre squadre perché per esempio poi anche la coppia Verstappo e Perez presi sicuramente Perez secondo me è un ottimo pilota però sta faticando tantissimo quindi non so dirti esattamente se quella o questa o la Mercedes ha la miglior coppia anche Norris e Ricciardo dicevamo che era la migliore no prima che iniziasse il mondiale però poi Ricciardo è sparito quindi non lo puoi mai affermare con certezza e allora ti faccio commentare queste parole di Sainz che ha detto come squadra abbiamo priorità più alte rispetto a battere Norris e Ricciardo per il terzo posto tra i costruttori questa è una cosa detta anche da Binotto che la priorità non è il terzo posto vogliamo continuare a migliorare come team per avere l'opportunità di vincere il titolo il prossimo anno nel 2022 con i nuovi regolamenti quindi qui non è che si è esposto solo il canno Binotto queste sono parole di Carlo Sainz Junior e qualcosa sembra bollere in pentola no non ti sembra anche questa sì il desiderio di competere di ritornare a vincere nel campionato costruttori però sembra effettivamente che la Ferrari il prossimo anno eh siano siano certi di avere un pacchetto molto competitivo ma che io ricordo è dal Mugello dell'anno scorso da quando parlò il canna che Ferrari dice che nel 2022 sarà da mondiale e io francamente credo che qualche base per dire per dirlo ci sia poi io l'ho detto tante volte il gruppo di lavoro che c'è adesso in Ferrari a me non dà garanzie non dà più di tanto garanzie perché gli ultimi anni sono stati deludenti quindi io se devo valutare quello che si è visto negli ultimi anni io non ti do assolutamente favorita la Ferrari per l'anno prossimo anche non solo per via della macchina per errori di strategie problemi c'è tante cose non sono andate negli ultimi anni però se loro la pensano così evidentemente sono pronti per farci ricredere e poi starà alla pista dire quello che sarà certo è che si stanno prendendo un rischio perché fare tutte queste dichiarazioni il mondiale tutto apriremo un ciclo poi se a Melbourne sei settimo sulla griglia serve la piazza purita lì eh perché fai una brutta figura anche a livello di immagine sì 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 sono d'accordo io la penso molto come Villeneuve che ha detto hanno fatto un gran casino in Ferrari in passato finendo per puntare tutto sul 2022 e nulla su quest'anno prima volevano essere un team italiano poi hanno cambiato idea gli uomini migliori sono stati mandati via e alcuni di essi oggi lavorano in Mercedes quello che pagano in pista è frutto di scelte risalenti a cinque anni fa quindi anche ovviamente nella fase Marchionne quindi eh lo abbiamo detto tante volte cioè la Ferrari paga scelte passate però sai il nuovo regolamento cambiano tanti aspetti quindi le power unit saranno le stesse ma è una nuova era per la Formula 1 e forse si aprirà un nuovo corso comunque staremo a vedere perché sicuramente la sfida il prossimo anno si preannuncia intensissima interessantissima con la Ferrari eh lì eh a giocarsi almeno eh a parole in questo momento speranze di titolo e per ora però eh voto leggermente sopra la sufficienza qualcuna si è visto si è partito da quel disastro di SF 1000 però troppo troppe i momenti altalenanti secondo me sì sì dobbiamo secondo me è giusto attendere l'anno prossimo quello sarà l'anno della verità comunque passiamo alla Red Bull sì passiamo alla Red Bull perché è stata scavalcata dalla Mercedes qui andiamo in ordine di classifica e la Red Bull secondo me un sette e mezzo anzi quasi un otto per la Red Bull perché comunque no io sono sull'otto anzi sono sull'otto perché nessuno si aspettava che quest'anno Mercedes potesse essere contrastata da qualcuno e Red Bull ha fatto un lavoro secondo me pazzesco migliorando in tutti gli aspetti adesso lasciamo perdere queste ultime due gare dove le Mercedes hanno giocato a bowling con le Red Bull se non l'avessero fatto per Stappen sarebbe stato con una buona fetta del mondiale in tasca secondo me perché sarebbe stato con una quarantina di punti di vantaggio però a livello di team di lavoro Red Bull ha fatto qualcosa di incredibile secondo me e meritano tanto poi tanta sfortuna per Stappen con la foratura a Baku preso da Hamilton a Silverstone se no sarebbe stato tutto un altro mondiale se la fortuna fosse stata bilanciata sono favorevole al la valutazione che hai dato ma addirittura da un voto otto e mezzo c'è alzo ancora di più la perché l'anno scorso la Mercedes praticamente non aveva rivali e invece ha finito bene il 2020 iniziato alla grandissima il 2021 la Red Bull avrebbe potuto vincere di più perché l'abbiamo detto in Bahrain l'abbiamo detto in altre circostanze dove dove sono arrivati dietro alla Mercedes però nel complesso hanno fatto dei passi da gigante anche sull'affidabilità e non solo perché hanno trovato tanto dal punto di vista della cavalleria della power unit hanno portato al limite questa vettura a livello aerodinamico il re che è super accentuato a proposito di questo Giovanni volevo trattare anche di questo argomento perché Marco ha detto chiaramente che il passo in avanti è della Mercedes cioè non c'è stata una direttiva figlia come si era paventato è stata smentita questa voce dalla stessa Red Bull dicendo il passo in avanti l'ha fatto la Mercedes con il motore come c'è riuscita grazie a questo raffreddamento grazie a questo lavoro straordinario sulla power unit quindi è vero che il regolamento è congelato però piccoli aspetti sono ancora possibili da piccole migliorie si possono ancora apportare e quindi la Mercedes in questo momento sembra aver fatto un lavoro che la mette addirittura sopra alla Red Bull come vettura a livello tecnico però io sono convinto che nella seconda parte di stagione Verstappen ci proverà fino alla fine perché lo ha detto l'ha dichiarato e motivato queste ultime due gare non fanno testo e andiamo sui piloti partiamo proprio da Max che ne abbiamo già parlato io darei nove a Max Verstappen sì intanto ti volevo dire che Newy stamattina ha rilasciato un'intervista ha detto vantaggio dissolto il nostro senza aver commesso neanche un errore quindi questa è un po' la fotografia del mondiale attuale sì Verstappen nove assolutamente anche nove e mezzo forse perché è stato perfetto ci ha esaltato in tante occasioni e come ho detto prima poteva essere molto molto più avanti in classifica ha perso 25 punti a Baku 25 potenziali a Silverstone e almeno 18 15 in Ungheria quindi ha perso quasi 70 punti per colpe non sue che sono un'eternità in formula 1 e ancora una volta la sfortuna ci ha visto benissimo in questo caso però a livello di guida a livello di guida che gli vuoi dire c'è eccezionale secondo me lo ripeto il miglior pilota che c'è in circolazione a mani basse a livello almeno di velocità e di cattiveria determinato e maturato e caparbio e semplicemente questi ultimi due gari gli sono andate male anche per per una questione proprio di di sfortuna e quindi vedremo quello che sarà la seconda parte di stagione di di Max Verstappen mentre Perez eh ha sofferto eh poi si è ripreso poi è tornato a soffrire insomma secondo me eh sei proprio anche qui un sé politico a Perez perché non è facile essere compagno di squadra di Verstappen e calarsi in questa nuova avventura eh però insomma nel complesso credo la sufficienza la meriti. Sì sono d'accordo e ormai la Red Bull sembra un po' la Honda della MotoGP no? Che solo Marquez la fa andare sembra una vettura dove solo Verstappen sembra riuscire a fare la differenza e capisco anche Perez non è non è facile essere lì a fianco di Verstappen questo dimostra che i vari Gasly, i vari Albon forse così scarsi scarsi non erano anche Albon l'anno scorso abbiamo criticato tante volte ma alla fine Albon l'anno scorso un paio di poti li aveva fatti e Albon come pilota secondo me non è non vale Perez però non stiamo vedendo differenze così così grandi perché Perez soprattutto nelle ultime gare a parte Baku è tornato ad andare in difficoltà quindi sì è sei ma senza infami e senza lode come si dice in gergo. Sì però insomma se nei costruttori la Red Bull è lì e grazie anche magari a quella vittoria eh di di Perez eh poi sono d'accordo con te che il distacco enorme rispetto a Verstappen in qualifica potrebbe fare di più però rispetto agli anni scorsi secondo me qualcosina in più l'ha dato eh sì sì qualcosina sì però è vero anche che l'anno scorso Red Bull non si giocava il mondiale quest'anno se lo sta giocando andiamo sulla Mercedes dai ma anche la Mercedes è difficile questi i top tip sono un po' più difficili da valutare perché vedete c'è quest'altalena continua tra primo secondo posto Mercedes io sto sul sette sei e mezzo sette anzi sei e mezzo perché non ha tutti si aspettavano che mantenesse quel vantaggio tecnico che aveva l'anno scorso che era enorme e invece non si è dissolto praticamente anche un po' forse per queste regole sui fondi insomma qualche differenza a livello regolamentare c'è stata e Mercedes è andata in difficoltà però poi incredibile Mercedes è sempre aiutata anche dalla fortuna questo diciamolo perché è stato riaperto un mondiale per per questioni di fortuna e questo è innegabile altrimenti come ho detto la situazione sarebbe diversa a livello tecnico cambiamento delle gomme qualche piccolo aggiornamento li ha aiutati a tornare lì in lotta ma in un po' incalando rispetto all'anno scorso nettamente anzi ma si può dire che però c'è una Mercedes prima di Silverson con le vecchie gomme e quella attuale perché con le gomme dure negli ultimi due gp la Mercedes ha fatto una differenza abissale poi sicuramente c'è anche un passo in avanti a livello tecnico con la power unit però sembra che a livello proprio di trazione su queste mescole la Red Bull anche in qualifica non solo la non solo in qualifica la Red Bull che ha un altissimo re che ha faticato tantissimo mentre la Mercedes è andata fortissimo quindi il mio voto è sette e mezzo perché sono calati rispetto allo scorso anno però si sono ripresi sette e mezzo addirittura sì sì sette e mezzo perché è un'astronave giù cioè noi stiamo comunque parlando di un'auto che che quando deve martellare lo ha fatto anche in alcuni GP ovviamente prima di Silverson perché certe gare Hamilton le hanno vinte anche meritatamente senza senza colpi di fortuna però insomma ci sono stati anche episodi tipo quello di Imola dove gli è andata benissimo a Hamilton e avrebbe dovuto magari fare due punti e ne ha fatti diciotto quindi è un insieme di fattori c'è sicuramente quello tecnico quello strategico quello politico è anche l'aspetto della fortuna che sicuramente io sto sul sei e mezzo perché dopo l'Austria la Red Bull sembrava nettamente avanti poi ragazzi non parliamo di complotti ma è arrivata questa nuova gomma e da Silverson la Mercedes è tornata la macchina migliore se non ci fosse stato alcun cambiamento di gomme e Mercedes da Silverson in poi fosse tornata così di incanto la macchina da battere era da otto e mezzo perché sarebbe stato un recupero incredibile però con la questione gomma a me qualche sospetto rimane sembra che il cambio gomma abbia un po' riapparato la situazione no? Questi nuovi fondi sembravano sfavorire chi ha poco rake ovvero la Mercedes e favorire chi ne ha di più ovvero la Red Bull invece adesso le gomme hanno scambiato di nuovo tutto e quindi per me la stagione Mercedes io per il momento la valuto fino all'Austria perché le ultime due gare già c'è qualcosa di diverso rispetto a prima è un campionato che in modo o nell'altro già l'hai falsato perché hai cambiato le regole in corsa nuovamente hai cambiato la costruzione delle gomme purtroppo questo è per questo do tre alla FIA ai regolamenti e a tutto quello che gira all'intorno anche alle penalità che che danno sì sì è un mix sì sì la FIA veramente merita tre poi facciamo anche il voto finale a Liberty Media perché oramai si sta sentendo di tutto e di più poi parliamo di quello circa Hamilton invece che voto dai? Hamilton sette sette per il momento perché comunque ha sbagliato in un mondiale in cui si sta giocando il titolo ha fatto degli errori ricordiamoci Imola Baku poi ha avuto quando ha avuto l'occasione le gare le ha vinte ha vinto in Spagna con quella rimonta su Verstappen a Portimao in Bahrain dove secondo me la Red Bull era leggermente superiore alla Mercedes comunque di esperienza se l'è giocata e l'ha portata a casa però ha fatto degli errori quella manovra brutta su Verstappen a Silverstone per me siamo sul sette non di più per il momento. Allora io ti dico la mia credo che un pilota vada giudicato più quando è in bagarre piuttosto che quando vince da solo abbiamo detto tante volte l'esaltazione che c'è in tv anche lo scorso anno quando ha vinto praticamente passeggiando con quella vettura quindi do mezzo voto in più sette e mezzo perché comunque ha retto in un certo momento poteva essere sotto di veramente di sessanta punti eh settanta punti e invece è stato lì poi c'è stato questo cambio l'abbiamo detto da Silverstone di marcia e e quindi nel complesso comunque un sette e mezzo lo merita ovviamente ho dato un voto molto più alto a Verstappen a Norris che hanno fatto cose straordinarie però insomma comunque do un mezzo voto in più Bottas Bottas l'anello debole quattro e mezzo niente non e addirittura e ormai è un un gelato finlandese ormai si è sciolto totalmente non secondo me non ha più senso che sia lì obiettivamente è vero la Mercedes conviene perché comunque davanti a Perez c'è quello l'ha fatto e davanti a Perez però l'eludente non spesso e volentieri mi ricordo Baku addirittura fuori in Q2 se non ricordo male molto molto male e ormai al quinto anno in Mercedes quindi insomma la macchina dovrebbe averla imparata per bene invece no troppo troppo scostante neanche credo solo una pole non ha mai vinto quindi quest'anno veramente il capolinea secondo me della sua esperienza. Sì Perez ha vinto una corsa e invece il massimo risultato di Bottas in questa stagione è stato un secondo posto in Austria quindi ma non solo per questo naturalmente do un voto in meno rispetto a Perez quindi do 5 perché tutto sommato in alcune situazioni comunque il suo lo fa però è deludente questa stagione di Bottas quindi insufficiente il finlandese assolutamente e invece adesso concentriamoci sulle idee Liberty Media perché dopo le sprint race addirittura Giovanni si parla di anno prossimo sprint race su gare storiche e quindi mi viene da pensare Monza Silverstone Monaco in Europa principalmente mi viene da pensare e poi si parla addirittura di un'altra idea di un altro format che adesso per ora tengono nascosto ma che cosa vogliamo dire più? Ma il bello è che l'ha detto Domenicali con tanto entusiasmo la sprint race è piaciuta quindi andremo anche su piste più storiche a io speravo che Domenicali potesse potesse far far molto di più doveva un po' con Domenicali secondo me poteva anche far riscattare quegli anni deludenti da di in principali in Ferrari perché obiettivamente se non ci fosse stato Alonso quelle Ferrari erano veramente disastrose quelli degli anni Domenicali invece invece assolutamente secondo me io credo che non possa fare più di tanto secondo me è veramente in mano a Liberty Media perché non ci credo che uno con quella professionalità la pensi veramente così secondo me è un po' nelle mani di Liberty Media un po' un fantoccio tra virgolette nelle mani di Liberty Media che più di tanto non ha potere decisionale perché non posso sono impazziti tutti veramente Brown Domenicali oppure non non so che idea abbiano di Formula 1 perché la Formula 1 con le sprint race a Monte Carlo mi metti la sprint race veramente siamo impazziti siamo impazziti ma le gare quelle sono storiche Spa certo Spa a Silverstone ma non lo so Ungheria se è considerata storica dall'ottantasette non so a livello internazionale cosa possono su Zuka su Zuka Interlagos Stati Uniti alla fine è una vista nuova cioè non ci hanno corso tante volte comunque vedremo anche a Monza la sprint race come andrà però insomma lascia veramente perplessi secondo me è solo una questione di spettacolo per creare la cosa che mi preoccupa è che a parecchia gente che a parecchia gente è piaciuta leggendo un po' anche sui social c'è della gente a cui è piaciuta quindi evidentemente avremo un'idea sbagliata noi non so Davide non so che dirti fateci sapere ragazzi dice diteci la vostra anche su questo votate pronostricate proprio anche come possa finire questo mondiale duemilaventuno noi naturalmente ci sentiremo per l'inizio eh del della della prossima gara a fine agosto e lì ci sarà un trittico di gare quindi tanta intensità vedremo un po' come la Red Bull cercherà di rispondere a Mercedes però intanto voi iscrivetevi a YouTube commentate come ho detto e alla prossima ciao Giovanni grazie ciao ragazzi ciao ragazzi ciao